La frutta che aiuta ad eliminare le tossine Le tossine possono trovarsi in qualsiasi luogo, negli alimenti che ingeriamo giornalmente, nell'acqua, nei medicinali oppure possono semplicemente essere prodotte da radiazioni e stress. In definitiva, si trovano ovunque. Per questo motivo è necessario effettuare una corretta pulizia del nostro organismo in modo da eliminare le tossine che possono essersi accumulate in esso, in questo modo possiamo migliorare le nostre generali condizioni di salute. . Inoltre, è importante sapere che la natura ci offre gli strumenti necessari per liberare il nostro organismo da queste tossine nocive. A seguire potete scoprire quali frutti possono essere utili per raggiungere tale obiettivo, per di più sono molti, si trovano ovunque e hanno un sapore squisito. Quindi, sarà un piacere pulire il corpo per mezzo di questi prodotti naturali. . Le mele sono in grado di stimolare sia il fegato sia i reni, così come proteggere efficacemente dalle malattie cardiovascolari e favorire il corretto funzionamento del sistema digerente evitando di soffrire sia di stitichezza che di diarrea. . Il loro elevato contenuto di polimeri acidi e neutri permette al nostro organismo di ripulirsi, poiché questi eliminano le tossine e regolano i livelli di colesterolo nel sangue. . L'avocado. L'avocado contiene grandi quantità di grassi monoinsaturi, che sono dei grassi sani, i quali aiutano a ridurre il colesterolo. Contiene anche vitamina E, un potente antiossidante che può eliminare le tossine. . Il suo contenuto di potassio ha la capacità di aiutare a controllare la depressione ed il suo contenuto di folato è importante per prevenire la fatica e la stanchezza. . . Le banane hanno proprietà dagli importanti effetti per l'organismo, tra i principali quello di aiutare a regolare la funzione dell'intestino, riducendo la stitichezza. Permette anche di controllare lo stress e migliorare i sintomi che provocano una forte acidità di stomaco. . Oltre ad essere di grande aiuto per disintossicare l'organismo, sia i pompelmi che i pomeli, prevengono numerosi problemi della pelle rendendola molto più sana e fresca. . . Apportano una buona quantità di vitamina C, indispensabile per rafforzare il sistema immunitario, tenendoci, in questo modo, lontani da raffreddori ed infezioni. Allo stesso modo, è di grande aiuto per il sistema digerente ed urinario. . . Le arance contengono grandi quantità di fosforo, il quale è molto importante per aiutare a controllare lo stress e alcune intossicazioni causate dal consumo di certi medicinali o alimenti. . . L'acido citrico in esse contenuto è depurativo, pertanto di grande utilità per pulire il tratto digerente poiché elimina i possibili batteri che si formano nel colon. Si tratta anche di un potente disinfettante. . . . . L'ananas contiene elevate quantità di bromelina, sostanza di grande aiuto per la corretta circolazione del sangue. Facilita anche la digestione poiché favorisce la corretta assimilazione delle proteine durante questo processo. . 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 anche in desiderati effetti collaterali.